Grazie Presidente, come ha ben spiegato il Ministro Spadafora, che ha cercato fino all'ultimo di evitare che il DPCM disponesse la chiusura di piscine e palestre, l'obiettivo del provvedimento era ed è quello di evitare e minimizzare al massimo gli spostamenti. Da questo punto di vista naturalmente comprendiamo l'intento del provvedimento e lo condividiamo naturalmente. Detto ciò, preso atto che queste chiusure ormai sono state stabilite e preso anche del fatto che lo sport era già in ginocchio prima delle chiusure, in quanto il numero di iscritti si era dimezzato, in quanto i costi comunque erano molto cresciuti negli ultimi mesi, intendiamo con questa mozione impegnare la Sindaca e la Giunta in primis a mettere a disposizione tutti gli spazi all'aperto di proprietà di Roma Capitale, quindi playground, piste di pattinaggio, piste di atletica, palestre all'aperto che sono presenti all'interno dei parchi, delle ville e delle verdi del comune, in modo tale da poter dare alle associazioni comunque degli spazi dove poter mantenere quantomeno vivo il rapporto con i loro iscritti. Questo ovviamente non serve minimamente a compensare le perdite dal punto di vista economico che stanno incontrando le associazioni, ma quantomeno serve a mantenere viva la vita associativa vera e propria. Parallelamente a farsi promotori presso il governo, nell'interesse della cittadinanza dell'amministrazione capitolina, di una richiesta finalizzata innanzitutto a, come diciamo da quattro anni sostanzialmente, modificare il codice dei contratti per quello che riguarda le concessioni di impianti sportivi e ancora di più di palestre scolastiche, in quanto le caratteristiche del servizio sono molto superiori, molto importanti per quanto riguarda gli aspetti sociali piuttosto che quelli economici e quindi l'applicazione del codice dei contratti in questo ambito specifico comporta delle difficoltà che appunto abbiamo evidenziato prima ancora del covid e ovviamente in questo periodo si sono accentuate. Stanziare un finanziamento a fondo perduto per sostenere tutti gli operatori, un finanziamento finalizzato all'emissione di buoni sport, quindi dei voucher per le famiglie meno abbienti, al fine di consentire ai ragazzi al di sotto dei 16 anni di poter frequentare i corsi sportivi. Specificare che le attività sportive per le persone con disabilità rientrano tra attività da tutelare, al pari di quelle degli atleti professionisti, esplicitando che anche esse quindi sono consentite ovviamente prevedendo il sostegno economico per gli operatori che vorranno continuare ad offrirle. Infine esentare i concessionari degli impianti sportivi comunali e dei centri sportivi municipali dal pagamento dei canoni di concessioni per tutto il periodo di queste nuove usure e promuovere una campagna informativa supportata da evidenze statistiche scientifiche che rassicuri gli utenzi di queste strutture che come vale anche quello che vale per i teatri, per i cinema, per i ristoranti, vale anche per le palestre e le piscine. Sono stati studiati dei protocolli per mesi le federazioni, il CONI e i soggetti hanno studiato delle misure per poter continuare le attività in sicurezza, hanno investito e adesso queste strutture e questi protocolli devono essere messi in pratica. Quindi eventualmente essere ancora più severi con le strutture che non dovessero rispettare questi protocolli, quindi chiudere sì certo questi, ma invece sostenere quanto più possibile tutti gli operatori e tutte le strutture che questi protocolli per poter svolgere le attività in piena sicurezza li rispettano. Grazie.